Cresce l'attesa in città per il candidato sindaco del centro-destra, c'è qualche passo in avanti in questo senso? Io credo che c'è un enorme passo in avanti perché oggi ho incontrato persone che emilatano il partito di Forza Italia e che per la prima volta sono state riunite per poter iniziare a decidere un percorso immediato che dovrà portare poi al coinvolgimento anche di altri amici che oggi non erano qui perché abbiamo preferito fare delle unioni a pezzi per evitare che ci fosse una grande confusione generale come avviene quando uno fa le grandi autunati, io stesso ascolterò anche altre persone che non erano qui presenti ma a questo tavolo oggi è una cosa di positiva perché c'è una unità di intenti nel vorer riportare a Cilavecchia un partito come Forza Italia ad essere punto di riferimento della città che eviti l'utilizzo del partito da parte di alcune persone che poi vanno ad altre parti ma che sia punto di riferimento di una classe dirigente che vuole lavorare nell'interesse esclusivo di Cilavecchia e dei suoi cittadini per migliorare la vivibilità, l'occupazione di questa città l'induzione del sindaco non è come dice qualcuno che verrà imposta io non ho mai imposto nulla nella mia vita ma credo molto nella capacità di far assumere le responsabilità a coloro che poi dovranno vedere il lavoro di questa persona sulla propria pelle in modo tale da poter essere corresponsabili a quello che sarà il futuro della propria città non è come ha detto qualcuno che ci sono imposizioni che arrivano da Roma io vengo da Roma ma non vivo a Roma quindi non ho nessun tipo di interesse è come io rispetto candidature di persone che si candidano a livello di associazione è sempre una bella cosa vedere persone che attraverso associazioni si candidano e danno la possibilità di poter essere sindaci della città ma nello stesso tempo devono rispettare anche le forze politiche sono quelle che ci mettono alla faccia costantemente tutti i giorni soprattutto in questo momento di grande difficoltà e non possono dire ogni volta che la politica viene per decidere a posto degli altri sono cittadini gli unici che decidono perché quando i partiti locali decideranno e il coordinatore regionale ufficializzerà la candidatura di partito io mi auguro di coalizione unitaria saranno i cittadini che valuteranno questa nostra proposta e loro decideranno se merita questa persona di governare Civitavecchia se non merita quindi lasciamo che ognuno si possa liberamente candidare ma che non si lanci a dare giudizi su forze politiche e su altri partiti rispettiamoci tutti Tanti nomi sono circolati in questi giorni tra questi potrebbe esserci quello di Forza Italia e del nuovo centrodestra faccio riferimento ad esempio a Sandro De Paolis o a D'Angelo Guardi, nomi che sono circolati non riguardano la prima persona io non ho nessun nome da farvi ecolare ho qualche segnalazione di qualche amico di partito non di Civitavecchia che mi danno delle indicazioni, delle valutazioni le quali non le terrò in considerazione nel senso che queste saranno valutazioni che mi porteranno ad influenzarmi nella mia scelta ma chi influenzerà la mia scelta sarà solo ciò che decideranno i rappresentanti di Forza Italia e di questa città L'ultima volta che è venuta a Civitavecchia ha sottolineato che sarà un candidato lontano dai poteri forti lo ribadisce, lo conferma? Allora io ribadisco questo per poteri forti intendo che noi abbiamo delle istituzioni importanti pubbliche e private in questa città noi vogliamo che queste istituzioni funzionino sempre al meglio che siano sempre più integrato nel rapporto città e istituzioni territoriali che ci sia maggior coinvolgimento e stesso percorso tra amministrazione comunale e queste attività diciamo come può essere l'autorità portuale che è una cosa importantissima che è un fiore all'occhiello di questa città, della regione ma della stessa Italia e di una presenza privata ma di una cosa dello Stato importante come l'Enel significa che la politica deve prescindere da questi perché io non posso ad esempio se parliamo dell'autorità portuale non posso io indicare il presidente dell'autorità portuale un tecnico che deve guidare l'autorità portuale perché così è previsto che sia un tecnico e poi questo tecnico si trasforma in un politico che voglia decidere anche le sorti della città è una cosa che non si capirebbe questa, non deve avvenire io credo che il presidente dell'autorità portuale debba fare bene il presidente come lo sta facendo faccio questo esempio per far capire come l'Enel è una presenza importante nella partecipazione dello Stato ad una grande inzienda ha anche una risorsa del territorio deve partecipare per quelli che sono i benefici che deve contribuire a dare a questo territorio integrandosi a quelle che sono anche delle difficoltà che i cittadini di questo comprensorio vivono per l'ubicazione di questa sua struttura che non serve a Cirovecchia ma serve all'intero paese quindi è giusto che ci sia una maggiore collaborazione io intendo questo per poteri cioè che non siano persone che devono fare altro a voler fare politica la politica la devono fare i partiti politici o i movimenti politici oppure le libere associazioni che intendono fare politica però a quel punto si devono togliere la casacca che hanno avuto dalla politica perché la politica le ha indicato in quel ruolo e scendere in campo e candidarsi perché questa è la vera democrazia ma non utilizzare ciò che la politica gli ha dato per poi distruggere la politica o per difendere posizioni acquisite io mi auguro che questo non ci sia è una precisazione che io mi sono sentito di fare ma non perché io ce l'abbia con qualcuno ripeto non ce l'ho con nessuno anzi io sono di quelli che ha contribuito fortemente a far sì che ci fosse questa nomina dell'attuale Presidente sia perché mi sono candidato alle regionali all'epoca della provincia contribuendo a farlo vincere sia perché anche nel sistema nazionale quando arrivarono i voti della provincia di Latina vincemmo il premio di maggioranza al Senato quindi ho contribuito due volte a far sì che ci fosse questa indicazione questa indicazione la rispetto perché è un'indicazione tecnica sta bene operando ma deve fare l'operatore del porto non deve fare altro questa è la mia indicazione ma non credo che faccia altro Un'ultima domanda è possibile parlare di tempi per questa candidatura a sindaco quanto ancora bisognerà attendere? Guardi io credo che i tempi sono importantissimi ma non devono essere diciamo quel elemento che ci deve portare a prendere una decisione che sia la decisione la non migliore possibile però io dico che massimo in una decina di giorni noi dovremo venire fuori con il nome del candidato sindaco almeno noi di Forza Italia per poi confrontarci con altri candidati che metteranno altri eventuali aggregati sia civiche che partiti politici e poi vedere chi ha il candidato migliore e chiudere l'accordo politico